numero 5 scarpe da calcio modello morelia 2 club ottimo prodotto queste scarpe offrono il massimo sostegno e comfort un design attentamente studiato nei particolari morbida ecopelle e supporto sagomato del tallone interno che rendono morelia mizuno un'ottima scarpa la chiusura è stringata e la fodera in tessuto vestibilità normale disponibile nel colore bianco con dettagli in oro il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 4 scarpe da calcio modello mizuno morelia neo 3 pro mix ideali per giocatori che cercano un prodotto ultra leggero flessibile autentico queste scarpe sono progettate specificamente per giocatori ad alta tecnica e velocità offrono una sensazione di comfort immediato sono resistenti nel tempo disponibili in due colori e in diverse taglie trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 scarpe da calcio mizuno con 12 tacchetti modello morelia club si realizzate in pelle sintetica di alta qualità classica suola con sei tacchetti intercambiabili per un comfort e una trazione senza pari su terreni morbidi soletta estraibile la gamma morelia offre la miglior trazione di mizuno l'uso di tecnologie biomeccaniche offrono grande performance e comfort ottimo prodotto se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca i link in descrizione numero 2 scarpe da calcio mizuno con 12 tacchetti modello morelia neo 3 beta elite disponibili in due colori e in diverse taglie ottimo prodotto chiusura stringata fodera sintetica vestibilità normale tutta l'innovazione giapponese di mizuno è evidente in questo prodotto velocità leggerezza comfort morbidezza se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 scarpe da calcio mizuno con 12 tacchetti modello morelia neo 3b japan queste scarpe sono di ottima qualità realizzate in pelle morbida avvolgimento del piede comfort immediato alla prima calzata durevoli nel tempo disponibili in tre colori vestibilità normale chiusura stringata mizuno ha combinato i materiali più leggeri degli ultimi decenni con la pelle più morbida per creare le migliori scarpe da football di tutti i tempi puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione